Sava Calici di Stelle, venerdì 10 agosto 2018, dalle ore 20 sino a Notte Fonda. Notte di vino, note di stelle, dal tramonto all'alba. È un evento del Comune di Sava con il patrocinio di Italia Agenzia Nazionale Turismo, con l'organizzazione del Movimento Turismo del Vino e dell'Associazione Nazionale Città del Vino. Intrattenimento musicale con la grande orchestra italiana, ospite Don Bacchi. Benvenuti nella Pulla del Primitivo di Manduria. La Kermes giunge alla sedicesima edizione e si svolgerà nel centro della città. In Via del Prete saranno allestiti i padiglioni espositivi e ci sarà la degustazione dei vini Doc Primitivo di Manduria e di indicazione geografica tipica Salento e Tarantino con acquisto calici. In piazza di sorgimento, alla Casa del Gusto, degustazione guidata a vini di origine controllata e di origine controllata e garantita, curata da sommelier. E anche mostra dell'artigianato. Nel Parco Pubblico Sassi, osservazione delle stelle. In piazza Spagnuolo Palma, degustazione di piatti tipici della gastronomia locale e visite al Museo dell'Olio. In piazza San Giovanni Battista, intrattenimento musicale con la grande orchestra italiana. Ospite Don Baki. In Via Roma, visite guidate al Museo Missionario Cinese ed istoria naturale previo appuntamento. Per info 099 97 21 909 099 66 1 22 42 E-mail sava.calicidistellechiocciolagmail.com Sito web www.comune.sava.it Si ringraziano gli sponsor Cairos, società cooperativa sociale Consorzio di tutela primitivo di Manduria MD Service, consulenza salute e sicurezza sul lavoro La DISA, Quality e Bavol Cooperativa solidarietà e lavoro Zona Notte, specialisti nel riposo